Dovete sapere che all'interno della settima generazione è stato introdotto uno strumento di un'utilità assurda Sto parlando del tappo d'oro e il tappo d'argento Questi strumenti che aiutano tantissimo nel competitivo per potenziare i vostri Pokémon Strumento che ritroviamo anche qui nella regione di Kanto E oggi sono qui con questo nuovo video guida a spiegarvi dove trovarli e soprattutto come usarli Ciao a tutti allenatori, io sono Federic e bentornati sul mio canale Prima di iniziare come al solito vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, un commento e iscrivervi al canale Perché siamo quasi 400.000 iscritti e che dirvi, vi fate questo regalo di Natale? Li raggiungiamo entro appunto il 25 dicembre? Grazie a tutti Ragazzi, prima di iniziare vi devo dire che questo sarà l'ultimo episodio della nostra guida extra su Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee Non ho più niente da mostrarvi, abbiamo completato questi giochi al 100% e spero che vi sia stata utile Se così fosse, mi raccomando, commentino qui sotto Se vi fa piacere, mi raccomando, scrivetemi se volete anche tutti i Master Trainer Potrei fare 5-6 Master Trainer a settimana in un unico video da portarvi, non so, il sabato sera È un'ipotesi Per quanto riguarda lo Shiny Hunting invece lo faremo su Twitch Quindi raga, veramente grazie a tutti per aver seguito questa guida Io oggi vi spiegherò come ottenere questi tappi d'oro e d'argento e soprattutto a cosa servono Innanzitutto, la loro utilità, si usano nel competitivo In questo gioco dovrete andare in comunicazione e poi attivare la battaglia con altri giocatori Problema, se voi potenziate i Pokémon con le caramelle, in questo caso il mio Charizard che è stato potenziato tantissimo con le caramelle Potete decidere se azzerare o meno tutte le statistiche In questo caso, ragazzi, io lo posso dipotenziare e andare direttamente in competitivo Però, c'è da dire che se voi lo potenziate con i tappi d'oro e d'argento, come era per sole e l'una, le statistiche rimangono Perché quelli servono per aumentare gli IV In questo caso, noi possiamo potenziare con il tappo d'argento una sola statistica del nostro Charizard Invece con il tappo d'oro andiamo a potenziare tutte le statistiche a 31 IV Quindi ragazzi, può essere veramente utile Ma come ottenere questo tappo d'argento? Potrete ottenerlo una sola volta al giorno da Rika Ora, Rika dove si troverà ragazzi? Andiamo subito a vedere Rika si troverà qua sotto Nel molo di Aranciopoli Un'altra cosa veramente molto importante è che per potenziarli con il tappo d'oro e d'argento Avrete bisogno assolutamente di un Pokémon a livello 100 Se no, non potete potenziarlo Quindi andiamo a battere Rika e otteniamo, ragazzi, immediatamente il tappo d'argento Così ve lo faccio vedere Poi vi faccio vedere anche come ottenere tappi illimitati Una cosa un po' un trucchetto, ecco E più tardi vi faccio vedere anche come valutare i vostri Pokémon Com'è su Pokémon GO Quindi man mano che finisce l'episodio ragazzi scoprirete un mondo veramente Quindi battiamo Rika anche abbastanza velocemente Ragazzi non voglio perdere troppo tempo Mi lancia fiamme, ho levato anche l'animazione proprio per fare più veloce questo episodio Perché non voglio farlo durare tipo 30 minuti Deve essere una cosa molto veloce, una guida Intanto ieri è uscito l'episodio sulle MT Ragazzi spero vi sia piaciuto Insomma ci ho messo veramente tanto tanto impegno E potrei fare ancora un ultimo episodio dove vi mostro tutti i Master Trainer Ma ce ne vuole ragazzi fare un episodio del genere Per registrare tutte le MT ci ho messo 3 ore filate Quindi non so se farvi appunto l'episodio con tutti i Master Trainer Dipende da voi Commentate in base ai commenti e ai like ragazzi io decido Abbiamo ottenuto come avete appena visto il tappo d'argento Ora io dovrei già avere un bel po' di tappi d'argento ragazzi nella mia borsa Comunque controlliamo subito Tappo d'argento eccolo qua Un bel tappo a corona colore argento Molto apprezzato da alcuni Ora ragazzi io non ho tappi d'oro Tappi d'oro sono quelli veramente più utili Perché vi vanno a potenziare tutto PS, attacco, attacco speciale, difesa, difesa speciale, velocità ragazzi Veramente un hyper training molto importante Quindi adesso per ottenere i tappi d'argento Quindi voi salvate, entrate Se non trovate il tappo d'oro Spegnete e riaccendete insomma Così ricercate nel casino e potete trovarlo Se non dovesse funzionare rispegnete e rifate questo procedimento Ok quindi guardate la coda di Pikachu come si muove Vediamo ragazzi se c'è qualche strumento Se siamo fortunati lo possiamo anche trovare subito il tappo d'oro eh Baccalampon ok Se non ce la facciamo ragazzi spegniamo e riaccendiamo Ok qua c'è un altro strumento Attenzione a Pikachu Un'altra baccalampon Niente, continuiamo a cercare ragazzi Sono molto e dico molto molto rari eh ragazzi Quindi non vi aspettate di ritrovarli subito Dovete essere molto molto fortunati appunto Qua c'è qualcosa ragazzi Attenzione Dove sarà? Questo strumento sarà qua? Baccanas Niente, ancora niente Continuiamo a cercare Ok qua Pikachu ha mosso la coda Sì dall'altra parte Vediamo Baccabana Niente ragazzi C'è andata ancora male Continuiamo a cercare Qua c'è un altro Baccananas Ancora niente Dovete sapere ragazzi Che gli strumenti Sono random Quindi ogni volta che voi Salvate e spegnete Entrerete dentro al casino Ma saranno totalmente randomizzati Ok Quindi non troverete di nuovo La baccalampon La baccananas E questi strumenti qua Quindi adesso io non ho trovato niente Quindi Dato che vorrei trovare un tappo d'oro Direi di spegnere e riaccendere E di essere fortunati Quindi poi ovviamente Vi faccio vedere anche Che per andare in comunicazione Vi basterà fare gioca con altri giocatori Fare giocatori lontani tramite internet In questo caso Vediamo un po' cosa succede Così vi spiego anche Fare magari una lotta in singolo Mettere il codice Pikachu 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 Un esempio Vi faccio vedere come disattivare il tutto Abbiamo trovato un giocatore Inizierei una lotta in singolo con questi Scegli il pokemon in cui partecipare Facciamo squadra Vuoi lottare con la tua squadra? Ok Partecipa Lotta in singolo Sofian Ok Lui manda in capo uno Zapdos Noi mandiamo Charizard ragazzi In questo caso Vi faccio vedere Che Tutte le caramelline Che erano state date Al Charizard Sono state praticamente Annullate Ed era questo Che appunto Vi volevo far vedere Ora però a me dispiace Abbandonare la lotta ragazzi Quindi magari la finisco E poi Ci rivediamo là Eh no però Mi ha abbandonato la partita Ti stavo facendo un mazzo Così ti stavo facendo E vabbè ragazzi Mi ha antirotto la partita Peccato Peccato perché Mi ha fatto piacere Continuare a lottare Ragà Lo stavo distruggendo Va bene A parte questo Ci vediamo di nuovo tra poco Vado a spingere la console Per farvi vedere Quel trucco che vi dicevo Ok ragazzi Ci siamo Quindi Ho riavviato la console Game Freak presenta Sì sì Bye bye Come al solito Quindi Su via Ciao Pikachu Sempre al top eh Ok a questo punto ragazzi Possiamo continuare Dove Appunto avevamo salvato In questo caso Non avevamo raccolto Nessuno strumento Possiamo rientrare E sperare nel tappo d'oro Se ne volete Uno al giorno Fate questo procedimento Ok Vediamo ragazzi Ok Come avete visto Prima qui Io avevo trovato Una bacca lampone Invece adesso Ho trovato una caramella Vitalità S Qui troviamo Una caramella Protezione S Invece Vediamo se qua ragazzi C'è qualcosa Qui ragazzi Troviamo una baccabana Qui ragazzi Una caramella Intuito L Qui ragazzi Troviamo una baccana Come potete vedere ragazzi I tappi d'oro Sono veramente rarissimi Non li trovate facilmente Però Con questo metodo Come avete visto Vi spawnano sempre Oggetti differenti Ecco qui ragazzi Una caramella Potenza M Per esempio Adottatelo Fatemi sapere Se trovate Il tappo d'oro Io sicuramente Dovrò farlo Altre dieci volte Per trovarlo Sono rari ragazzi Sono veramente Molto rari Comunque A parte questo Come potenziare Adesso i nostri Pokemon Ebbene ragazzi Ci penserà Nonno Pro Ma nonno Pro Dov'è che sta? Tra Celestopoli E Zafferanopoli Quindi Siamo arrivati a Celestopoli Usiamo il nostro Charizard E raggiungiamo Questo vecchietto Che si trova ragazzi Nella pensione Pokemon La trovate proprio qua sotto Eccoci qua Ora Noi scendiamo Il nostro Charizard Vediamo un po' Cosa ci dice Salve Sono nonno Pro Vuoi che alleni i tuoi Pokemon? Certo che si Quale Pokemon vuoi sottoporre All'allenamento Pro? In questo caso ragazzi Charizard Quale statistica Vuoi sottoporre All'allenamento Pro? In questo caso Possiamo scegliere ragazzi Una tra queste statistiche Io direi Per Charizard Attacco speciale Potenziamo la statistica Attacco speciale di Charizard Con questo bel tappo d'argento? Yes! Wow Vai così Così mi piaci Tieni duro Charizard adesso è più forte Grazie all'allenamento Del nonno Pro Vuoi allenare un altro Pokemon? Ovviamente no Se voi gli date Il tappo d'oro Tutte le statistiche Aumenteranno ragazzi Ed è pazzesco No? Quindi Tutti al 31 Ovviamente ci sono metodi Per ottenere Pokemon Con gli EV al 31 Per esempio Facendo le catene Dopo la catena 31 Svolgete una catena Di 31 Pokemon Catturati di fila Il 32esimo E andando avanti Avrà sempre Gli EV sempre più alti Quindi ragazzi Usate anche quel metodo Per far sì che Avete già sin da subito Di Pokemon con gli EV alti Ora Ha fatto questo Come valutare Il proprio Pokemon? Bene C'è un assistente Del professor Hawk Che ragazzi Ci può valutare I nostri Pokemon Quindi Facciamo gioca con Ashley E vogliamo ad Aranciopoli Perché questo assistente Ragazzi si trova Proprio qui Il barco Tra il percorso 11 E il percorso 12 Non l'ho fatto Durante il gioco Proprio per farvi Quest'episodio Di guida Quindi Usiamo il nostro Charizard E raggiungiamo L'assistente Tra l'altro Sul percorso 11 Ho ancora alcuni strumenti Da raccogliere Come potete vedere Poi li raccoglierò Tranquillamente Quindi scendiamo qua Squadra Charizard Rimettiamolo nella ball Si dovrebbe trovare Al piano superiore Se non sbaglio Ti ricordi di me? Sono l'assistente Del professor Hawk Il professore mi ha incaricato Di consegnarti Il sistema di valutazione A patto che tu abbia raccolto I dati di almeno 30 specie di Pokemon Ho completato il Pokédex Quindi Grazie mille Vedo che hai raccolto I dati di 152 specie di Pokemon Congratulazioni Dammi un attimo E aggiungerò Il sistema di valutazione Alla tua borsa Grazie mille ragazzi Ora abbiamo Il sistema di valutazione Sfruttando i tappi E il sistema di valutazione Andrete veramente A gonfie vele Con il competitivo Quindi adesso ragazzi Ci ritroveremo Nel menu Potenziale Y Potenziale Ottimo Vedete ragazzi Queste sono tutte Le statistiche Che potete migliorare Vi dice anche Se è sufficiente Notevole Normale O addirittura Stellare E questo è un ottimo metodo Ragazzi per far valutare I vostri Pokemon Vedete E in base Alla vostra valutazione Che potete ricevere Tramite questo strumento Potete anche ragazzi Magari aumentare In questo caso I PS Di Golem Così ragazzi Di fare arrivare Anche questa statistica A stellare Facendo arrivare I PS a stellare Vi basterà usare I tappi d'argento E aumentare Solo i PS Tanto le altre ragazzi Non avete motivo Di potenziarle ulteriormente Perché già stiamo a stellare Poi vedete Potenziale Eccellente C'è scritto proprio lì Lui ragazzi Sopra la media Ottimo Eccellente Molto molto figa ragazzi Questa valutazione La vedo anch'io Per la prima volta Insomma ragazzi Questo era L'hyper training Di Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee Spero vi sia stato D'aiuto Io non ho altro da dirvi Se non raccogliete Tantissimi tappi d'oro E divertitevi Nel competitivo Probabilmente Troverete anche a me A giocare su Let's Go Pikachu Eevee Perché è divertente Mi dispiace Che quell'allenatore Di prima abbia quittato Cioè Cattivo Veramente Comunque tranquilli Che a breve ragazzi Arriveranno tanti nuovi video Perché per ora Lo lasciamo proprio da parte Let's Go Pikachu Eevee Perché non abbiamo più niente da fare Prossimo anno Ovviamente Nuove serie Perché saranno veramente Ragazzi Il top del top Ve lo posso assicurare Ho in mente Certe cosucce Veramente Pazzesche E noi ci vediamo Con il prossimo video Grazie a tutti Ciao allenatori E ovviamente Ricordatevi il mi piace Il commento E iscrivetevi al canale E